La presentazione che annunciava una serata di grande raffinatezza nel tipico mood della costa azzurra negli anni 60 non ha certo deluso le aspettative e il palato dei fortunati astanti che, lo scorso venerdì 10 di giugno, hanno partecipato all'iniziativa culinaria organizzata dal ristorante Campelli di Albosaggia. Questa volta a tenere banco è stato il plato royal, trionfo di crostacei rigorosamente crudo e freschissimo, arricchito da caviale, ostriche e altri frutti di mare pregiati. A gestire la preparazione e la presentazione delle portate, Michele Gallina, consulente per l'area nord-ovest di Selecta, che con una capillare di impeccabile accuratezza esplicativa ha avuto il pregio di coinvolgere tutti i presenti nella scoperta della genesi di ogni singolo piatto. Selecta è una storia nata 26 anni fa da 8 persone che si sono conosciute e che avevano lo stesso fine, quello di scoprire eccellenze gastronomiche in tutto il mondo e portarle agli chef che volevano mettersi in evidenza in quegli anni, soprattutto nei primi anni 80-90 quando effettivamente la cucina italiana stava crescendo ed esprimendo le migliori performance. Finbinique, speciale du Belon, per le noire, en slant. Nomi d'eccellenza per un crostaceo di prima classe, l'ostrica. Merce rara e da maneggiare con cura certosina. Abbiamo quattro tipi di ostriche, tutte concave e partendo dalla destra del fiore, in senso orario, degustiamo una Finbinique che è l'ostrica selvaggia, quindi tre anni di affinamento in Baia. Proseguendo, sulla sinistra abbiamo l'Anselen, due fratelli che allevano l'ostrica amarendole ron, quindi in bacini che si chiamano clare, sono delle chiuse amare, dove si sviluppa un'alga che si chiama Dulce e gli dà una particolare dolcezza. In alto, sulla sinistra, abbiamo la Perle Noire. Perle Noire viene dalla Baia più a nord della Francia, siamo in Normandia, ed è un'ostrica che viene coltivata con un'alga nera che gli dà questa conformazione con questo labbro molto nero, ma ha una dolcezza particolare, quasi zuccherina, una leggera nocciolatura. L'ultima sulla destra, una speciale double on. Una serata davvero riuscita, un menù di altissimo livello alla base del quale sta il compromesso di due paesi, Francia e Italia, portatori di due culture, entrambe legate alla genuinità. Alla tartare di gamberi rosa, sale galles e pepe di timut, pietanza dalla straordinaria e profumata freschezza, hanno fatto da contrapunto gli spaghetti senatore Cappelli, con aragosta di Tristan. Alle bollicine dello Champagne e Rio Bru Sovran, casa vinicola fondata a Rem nel 1808, ha fatto eco il semifreddo ai limoni di Sicilia, a chiudere quello che, più che un sogno della costa azzurra, si è rivelato essere la realtà di una cucina alta, che ha stretto la mano a una tradizione e storia gastronomica che è anche la nostra. Continuiamo ad essere una grandissima eccellenza all'estero, proprio perché il nostro mare è un mare che dà tantissime varietà e specie che sono poco conosciute all'estero, molto sfruttate in Italia, perché come sappiamo benissimo l'Italia è talmente variegata, talmente tantissime regioni che esprimono culture totalmente diverse e sfruttano tipologie di pescato completamente diverse l'una dall'altra, ma proprio anche a livello di pesce che magari in una zona meglio di un'altra preferisce vivere e riprodursi. Ci sono veramente quantità importanti di prodotto da poter sfruttare, che però purtroppo per questioni economiche, sappiamo che sono quelle che rovinano sempre, poi alla fine tutti i mercati, abbiamo messo in discussione tutto un settore, un settore che ha perso tantissimi equipaggi, tantissimi posti di lavoro e che potrebbe rilanciarsi grazie a politiche anche interessanti da parte appunto dello Stato e anche dei privati che potrebbero sostenere meglio i pescatori che fanno una vita veramente poco piacevole. Nel nostro DNA c'è la professionalità e il voler lavorare bene per soddisfare chi ci segue, i nostri ospiti. Credo che abbiamo portato qualcosa di innovativo anche per Sondrio, continueremo di questo passo quindi proporremo altre serate di questi generi passando da regionali a internazionali in modo non schematico ma comunque toccando tutte le situazioni che in questo momento l'enogastronomia offre.